Si allarga il fronte critico sulla gestione dell'acquedotto del Ruzzo nonostante la soddisfazione espressa dalla governance durante l'incontro organizzato per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021. 21 i voti favorevoli, uno astenuto e uno contrario, presenti 23 sindaci su 36. Lo scontro politico sulla gestione dell'acqua nel Terramano prosegue e si accende sempre di più, visto che il fronte dei sindaci che promuovono l'attuale direzione della società si sta erodendo rispetto al passato. Di questo avviso è soprattutto il sindaco di Terramo Gian Guido d'Alberto che continua la sua battaglia contro l'attuale governance. E' proprio così un segnale forte nei confronti di una gestione della Ruzzo Leti, nei confronti della quale abbiamo espresso come città di Terramo sempre una contrarietà non per pregiudizi, perché è una gestione che mette in rischio l'equilibrio economico-finanziario e quindi anche l'affidamento in house, verso il quale stiamo tutti andando e che vogliamo assolutamente sostenere. Un bilancio approvato da un numero assolutamente risicato, solo il 57% delle quote è approvato l'ultimo bilancio della Ruzzo Leti. Io credo che sia un segnale fortissimo di un'erosione, di un sistema di potere che sta dimostrando tutte le sue crepe, sta penalizzando fortemente i cittadini, con un carico significativo sulle bollette, perché è una gestione dispendiosa che si riverbera ovviamente sui cittadini, sulle bollette. Pensiamo ad esempio al costo del personale che è di 4 milioni di euro più alto rispetto a quello previsto sul piano d'ambito. Nel corso di questi anni, del 2020 e 2021, in particolare una società come la Ruzzo Leti, che ha diversi dipendenti, tanti dipendenti, nonostante questo e tanti interinali, ha proceduto con le esternalizzazioni, quindi ha esternalizzato i servizi. Oggi non lo possono fare più e che cosa hanno fatto? Hanno riassunto le persone oggetto dell'esternalizzazione tra gli interinali, riducendo peraltro le ore agli operai. Quindi una scelta è una gestione che assolutamente penalizza non soltanto l'assetto gestionale e l'equilibrio finanziario, penalizza gli operatori, non dà solidità e futuro ai precari, ai lavoratori precari della Ruzzo Leti e crea solo ed esclusivamente un carico di costi che poi si riverbera sulle bollette. Ricordiamo che rispetto a quanto previsto dal piano d'ambito il costo della bolletta è di 0,50 euro al metro cubo in più rispetto a quello che si dovrebbe pagare. Quindi la tariffa deve essere abbassata, in realtà si sta procedendo ad un incremento perché bisogna coprire i costi di gestione e questo è assolutamente intollerabile.